buongiorno ragazzi dal vostro albe ho appena finito di preparare tutto per trasmettere la nuova puntata di non succede mai un la vostra rubrica preferita comunque ma cosa sta succedendo stiamo avendo delle interferenze adesso devo chiedere alla regia aspettate un attimo perché Houston abbiamo un problema ciao a tutti ragazzi un saluto qua dall'Egitto un abbraccione a tutti i ragazzi anche di Radio Complotto perché non succede mai un Cairo e quindi qua praticamente nella visita che abbiamo fatto hanno predisposto praticamente la tumba per Dzeko Brocci d'accanto hanno già cominciato a configurare quella di Re Carlo e stranamente accanto c'è ottima questa incursione a sorpresa del nostro amico Luca Labella che saluto e salutiamo noi di Radio Complotto e tutta la regia buone vacanze mi raccomando divertiti a non succede mai un Cairo e di conseguenza regia sigla buongiorno ragazzi dal vostro albe visto che ci avete trovato abbiamo avuto una piccola turbolenza iniziale visto che ci avete trovato vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di cacca tube ok commentare e lasciare i like ai video se vi piacciono vediamo partiamo subito con le con le info di che ho trovato questa mattina Trump prevede di ricevere il primo ministro ungherese nella sua tenuta in florida l'incontro dovrebbe svolgersi la prossima settimana l'agenzia ritiene con una mossa del genere che una mossa del genere aumenterebbe la preoccupazione tra gli alleati degli stati uniti sulla prospettiva del ritorno al potere dell'ex presidente andiamo avanti ok abbiamo un video la quota dei brics sull'economia mondiale è parità di potere d'acquisto aumenterà al 36,6 per cento entro il 2028 grossi aumenti per l'economia mondiale dei brics quella del g7 scenderà al 27 e 8 detto da Putin ma andiamo avanti un'altra immagine un articolo della verità paralizzata dopo il siero le offrono l'eutanasia sono dei criminali un articolo di Maddalena Loy la donna canadese ha chiesto un risarcimento a Moderna ma intanto l'ospedale le ha proposto di morire miserabile che non sei altro ma andiamo avanti pezzi di appena entrato Tim Buckley si dimetterà dalla carica di SEO di Vanguard asset manager da 7,2 trilioni di dollari il mese in corso Vanguard ha bandito tutti gli etf bitcoin dalla propria piattaforma paura va bene ma proseguiamo con le notizie abbiamo qua un articolo gli ufficiali dell'esercito tedesco sono stati intercettati mentre parlavano di un attentato contro il ponte della crimea questa è l'ennesima conferma il terrorismo non parte da qualche taglia gola del deserto parte dalla nato e voilà è tutto così magnifico cosa abbiamo qui? il candidato presidenziale americano Kennedy ha affermato che gli Stati Uniti hanno fatto saltare in aria il Nord Stream Robert Kennedy propose di fare la pace con la Russia in modo che il gas russo ricominciare a fluire verso i paesi dell'Unione Europea il GNL americano secondo Kennedy dovrebbe essere utilizzato dagli stessi stati per i propri bisogni se non sbaglio lui corre con i democratici ma comunque ha una linea di pensiero molto simile a quella di Trump vediamo se in America si riesce a fare la dovuta pulizia oh qua Biden abbiamo questa qua la White House c'è una diretta questa persona qua dello staff di Biden in tre anni Biden ha fatto più di quanto i presidenti precedenti abbiano fatto in due mandati questa ha vinto la sei l'ultima come barzelletta proprio ha vinto l'ultima puntata della sei l'ultima ha vinto tutto allora report della Rand Corporation 2022 che fa analisi per il Pentagono che spiega come sia necessario indebolire la Germania creando una recessione tagliandole il gas russo in modo da avere un flusso di risorse dall'Europa agli USA cioè attrarre capitali dall'Europa nella borsa e bonds usa e scrivono che la Germania è un paese a sovranità limitata e bisogna evitare che diventi più indipendente tutto ha un filo logico no vedendo quello che sta accadendo ok trovo il video di Harari questo è un grandissimo pezzo di signor Harari dice esplicitamente che c'era un ordine liberale globale rifiutato dalla Russia, Iran e Nord Corea ricordatevi no? Trump che fece visita al presidente nord coreano alle quali si sono aggiunti gli Stati Uniti Harari afferma correttamente che gli USA erano gli architetti di tale ordine fino a quando non è giunto Trump Harari sta esplicitamente dicendo che Trump è stato decisivo per il fallimento del nuovo ordine mondiale andiamo avanti gli agricoltori olandesi non iniziano a non scherzare più una situazione molto grave si sta sviluppando quando gli agricoltori in Olanda discutono di ulteriori azioni avvertono di una potenziale guerra civile e di grandi disordini in tutto il continente europeo iniziamo alla fase degli agricoltori inizia a scaldarsi non qua in Italia ovviamente perché Francia invece azione a sorpresa di agricoltori del coordinamento rurale dalle 5 del mattino alla rotonda dell'arco di trionfo 84 gli agricoltori sono stati arrestati vi facciamo vedere il video dove ci sono questi trattori agricoltori con le bandiere non vi facciamo vedere gli altri video ma li metteremo poi nel canale Telegram perché se facciamo vedere i poliziotti che menano gli agricoltori potrebbe youtube trovarlo come pretesto scusa per bloccarci la puntata miserabile che non sei altro pezzi di andiamo avanti ma guarda un po' noi cospiratori abbiamo avuto ragione fin dall'inizio ora il CDC ha cambiato il protocollo per trattare il coso e lo accomuna agli altri comuni virus respiratori come una normale influenza nel mondo dei reali nel mondo dei reali non solo i Windsor affetti da malattie misteriosi ritiri e morti improvvise in loro compagnia ci sono anche altri reali d'Europa stranamente stanno morendo e scomparendo un po' tutti questi beneamati reali andiamo avanti Nicaragua denuncia la Germania alla corte internazionale di giustizia per la sua complicità nel genocidio a Gaza sembra che non accada niente ma sotto si sta muovendo tutto wow oh abbiamo il nostro amico Hunter Biden Hunter Biden Hunter Biden la House Oversight che cazzo ha detto? rilascia la trascrizione della deposizione di Hunter Biden Hunter ammette che Joe è il ragazzone ciò significa che Obama e Joe usando usando Hunter come procuratore stavano vendendo le decisioni politiche statunitensi agli oligarchi stranieri per arricchirsi ci hanno venduto conosciuto anche come tradimento ok? oh questa è bella Renault continuerà a produrre continuerà a produrre auto con motori termici quindi dopo la Mercedes-Benz continua la veloce exit strategy dei costruttori dall'elettrico le aziende hanno due scelte o tradiscono i cittadini producendo solo auto elettriche e portando di conseguenza i libri in tribunale oppure tradiscono la simpatica belligerante Ursolina e tornano a costruire auto vere con motore endotermico a quanto pare sembra stiano scegliendo la seconda opzione Ursula von der B**** fatela a prendere ma andiamo avanti oh il presidente della Colombia Gustavo Petro mentre chiedevano più cibo più di 100 palestinesi furono assassinati da Netanyahu questo si chiama genocidio e ci ricorda l'olocausto anche se le potenze mondiali non amano riconoscerlo il mondo civile deve bloccare Netanyahu la Colombia sospende tutti gli acquisti di armi da Israele poi c'è un video che non metto dove fanno vedere che i 150 civili affamati sono stati assassinati da Israele mentre aspettavano del cibo a Gaza non mettiamo il video perché per ovvi motivi YouTube lo troverebbe poi come pretesto per ma andiamo avanti magari non so se l'avete visto per l'intervista con Tucker Carson scrive Benz ex dipendente del dipartimento di stato americano ricordate le mie parole quando le acque si calmeranno o comunque si saranno calmate sapremo che l'Ucraina è stata la più grande operazione della CIA nella storia piano piano viene fuori tutto e poi ci troviamo con un video del nostro simpaticone Trump che dice su Biden Biden e i suoi complici vogliono far crollare il sistema americano annullare le volontà dei veri elettori americani e stabilire una nuova base di potere che dia loro il controllo per generazioni questo video trovato dal canale di Luca Labella Database Italia che prima ci ha fatto una bellissima sorpresa con quella interferenza non succede mai un Cairo andiamo avanti cosa abbiamo qua Donald Trump ha vinto i caucus dei GOP nel Missouri 100% dei voti Nicky Ali resta completamente a zero non si può fermare ciò che sta per arrivare ok ricordatevi anche questo tu mi dici quello che volevo fare e io lo faccio finite con immagini e video passiamo al nostro web anza Putin all'occidente anche le nostre armi possono raggiungervi ma è una sciocchezza dire che vogliamo attaccare l'Europa quindi finitela si sta dimostrando veramente una persona di molto buon senso che lascia perdere dopo 24 anni la Giorgia Meloni non si sa per quale motivo di questo governo della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti che ringrazio è un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico ok sono riusciti non si sa con quale accordo o che sa che cosa debbano coprire possono essere molteplici finalmente dopo 24 anni Chico Forti torna in Italia ricordato Chico Forti andò in America per girare dei documentari entrò in un certo giro morì Gianni Versace lui voleva fare un documentario per fare chiarezza sul caso guarda caso qualcuno lo incolpò dell'omicidio ed è da 24 anni che sta chiuso lì abbiamo visto in Italia qualche servizio di Mediaset le Iene e quant'altro per cercare di fare chiarezza sul caso ma non gli Stati Uniti non volevano sentire ragioni di rilasciarlo sembra una buona notizia ma vedremo è una buona notizia per Chico Forti e per noi italiani però bisogna vedere poi che cosa va a coprire questa notizia o che cosa c'è dietro e quali sono le promesse trovo un tweet di Cambio Casacca che ricordo che mi fa molto ridere la Salis ricordate l'antifa che prese a martellate un fascista se non erro in Ungheria Cambio Casacca dice dico alla Sà che ora è nelle prigioni ungherese vorrebbe essere scarcerata dico alla Salis di avere solo un poco di pazienza fra 23 anni la riporteremo a casa andiamo avanti ultima ora punto net politics il fatto quotidiano con lo scrutinio delle 22 sezioni rimaste ora la differenza sarebbe di 800 destra pronta al riconteggio quindi in Sardegna pare che non abbia vinto la sinistra i sinistri non abbiano il PD quindi adesso vediamo quali saranno poi i risvolti dei conteggi e quant'altro vediamo kick.com pubblica ufficiali militari tedeschi pubblica proprio la ok ragazzi ormai viene tutto fuori qualsiasi cosa cercano di fare come sotterfugio vengono smascherati immediatamente ufficiali militari tedeschi furono registrati mentre pianificavano un attacco contro il ponte in Crimea l'obiettivo è di importanza strategica e politica militare ma non possiamo sembrare direttamente coinvolti Olaf Scholz poi i complottisti siamo noi i complotti li fanno loro Olaf Scholz mette la Germania a rischio di guerra con la Russia pazzo miserabile che non sei altro vi faccio vedere questa foto perché si parlava di Macron che disse di mandare le truppe terrene in Ucraina ma qua tutte chiacchiere perché vi faccio vedere questo qua Timothy Fadek è un ex giornalista che adesso è andato a vedere sul profilo non fa più vedere che lui è un reporter della CNN ma vi faccio vedere che già il 22 marzo qua in basso avevamo i nostri cari americani e questa qua è una truppa del battaglione Azov quindi loro già si trovavano in Ucraina ma già da molto tempo prima e abbiamo sempre denunciato queste cose no? vedete qua la bandiera americana la vedete? sotto il commento di queste foto era la Nato si trova in Ucraina per studiare i movimenti di queste piccole di piccole truppe di Azov che dovevano arrecare questi ingenti danni alla Russia la cosa che mi fa arrabbiare molto è che questi qua non erano lì per studiare a livello militare il battaglione Azov questi si trovavano lì per addestrare il battaglione Azov a romper i c***i alla Russia ok? vedete qua le bandiere americane insieme ai soldati ucraini quindi se uno fa un po' di ricerca queste foto sono di 2022 quindi pubblicate due anni fa ok? se uno fa un po' di ricerca le trova queste cose poi ai tempi noi pubblicavamo determinate cose mi veniva dato del complottino col tutto che erano sul profilo di Timothy Fadek ex reporter della CNN dico ex perché non so cosa fa adesso in quanto non è più nella sua biografia questa cosa ma andiamo avanti molto interessante no? dice se le nostre truppe fossero in Ucraina ci sono già da tanto tempo Paolo Becchi qui il cancelliere imbarazzato è costretto a riconoscere che l'intercettazione è autentica vabbè Scholz sta accumulando figure di e trovo ancora un altro post su X di Orsini il funerale di Navalny non ha nessun valore rispetto ai funerali dei bambini di Gaza però la televisione italiana copre è il primo e non i secondi perché il sistema delle informazioni in Italia è totalmente corrotto svolgendo la mera funzione di sorreggere la propaganda della Casa Bianca come on man siccome i funerali dei bambini di Gaza fanno apparire Biden come un terrorista criminale mentre quello di Navalny lo fa apparire come un eroe la televisione italiana parla del funerale di Navalny e ignora i funerali di 13.000 bambini palestinesi massacrati da Israele dalla Commissione europea e dalla Casa Bianca siete delle merda questi sono i nostri media di di regime che abbiamo nel nostro paese e non solo ok perché controllano a livello mondiale tutto Adrivano Valenti pubblica questo video di buffonate di Stato dove sintetizza il siero mRNA quindi magic scatena processi cancerogeni a lungo termine causando tumori infatti arresti cardiaci malori improvvisi paralisi malattie fulminanti risveglia tumori dormienti e malattie autoimmuni dell'organismo tante pecore hanno fatto inoculare anche i propri figli che ci pensi dio a queste cose stana di glen la germania rivela che i soldati britannici sono dietro gli attacchi alla flotta russa nel man nero questo è pazzesco un atto di guerra contro la più grande potenza nucleare del mondo andiamo avanti oh gospa news informazione giornalistica cristiana breaking ente dei farmaci nascoste reazioni avverse dei cosi parlamentari britannici accusano si dimette il capo esecutivo mhra big farm va bene e poi posteremo l'articolo tante belle nuove notizie belle belle mica tanto però tante nuove notizie da prendere col giusto spirito in quanto noi persone che abbiamo sempre ricercato la verità quindi o i risvegliati o gli svegli non gli sveglioni va bene DC Drano breaking il portavoce Johnson annuncia il rilascio questo è importante vediamo annuncia il rilascio di 5000 ore di filmati CCTV J6 dice che questa è la prima ondata di molte che arriveranno nelle prossime settimane e mesi ha anche ordinato che nessun volto venga offuscato quindi nudi e crudi il che avrebbe nascosto gli informatori agenti della fed è ora della verità su J6 quindi rete televisiva americana andiamo avanti il papa l'ideologia gender il papa ha sempre sposato no le politiche atlantisti globaliste adesso tutto di botto non si sa come mai e ci mette in guardia l'ideologia di gender è il nostro pericolo più brutto del nostro tempo ma vai a cagare adesso magari remissione dei peccati non lo so il 3 marzo c'è un'intervista come come ultimo trovo un posto su X dove c'è un'intervista di Melinda Gates dove il 3 marzo 2002 Melinda Gates dice che il CBS This Morning che il lavoro di Bill Gates con l'abominevole Jeffrey Epstein ha portato al divorzio continua dicendo di aver incontrato Jeffrey Epstein solo una volta volevo vedere chi era quest'uomo e me ne sono pentita dal momento in cui ho messo piede nella porta era ripognante era il male personificato ho avuto degli incubi a riguardo sapete il mio cuore si spezza per queste giovani donne perché è così che mi sentivo e qui sono una donna anziana mio dio è stato terribile e con questa che era l'ultima notizia chiudiamo tutto e ringrazio sempre la regia per questi magnifici stupendi sfondi questo qua è proprio il tempo che abbiamo vissuto delle persone che non vogliono vedere si tappano gli occhi noi rimaniamo con gli occhi aperti e ci godiamo questo film inoltre vi ricordo che oltre a essere su youtube siamo su rambo i nostri video lì non vengono toccati sono integrali ok i shorts di youtube li troverete anche sul nostro canale tiktok andate a iscrivervi anche su tiktok lo so che non è una piattaforma per persone adulte però sta sviluppando almeno per quanto mi riguarda degli algoritmi dove mi mostra solo le notizie interessanti in più abbiamo il nostro canale telegram più la relativa chat il nostro canale di x dove metteremo tutti gli aggiornamenti delle puntate degli short e quant'altro vi ricordo che potete acquistare acquistare sul nostro link qua sotto del merchandise tutto il vestiario di non succede mai un caso questo qua è il nostro cappellino bellissimo adesso non lo metto perché non fa più freddo come una volta inoltre vi ricordo la nostra collaborazione con eilnatura del quale potrete diventare partner anche voi vi ricordo che sempre in descrizione troverete il link per l'acquisto dei prodotti con il 15% di sconto detto questo non ho più niente la puntata finisce qui come sempre vi abbraccio vi auguro una buona giornata e vi mando un bacio ciao vai vai ciao 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 Grazie a tutti.